E' stata sottoscritta venerdì 15 giugno nella sede della città metropolitana l'intesa per l'anticipo dell'indennità di cassa integrazione straordinaria comprensiva dei contratti di solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici residenti nell'area metropolitana di Torino. A firmare l'accordo Intesa San Paolo, Compagnia di San Paolo, CGL Cisluil e Città Metropolitana. Anche quest'anno Intesa San Paolo ha voluto essere vicino ancora alla città metropolitana e rinnovare gli accordi. Inoltre quest'anno abbiamo anche accolto la richiesta dei sindacati per anticipare quanto spetta ai lavoratori in base al fondo di integrazione salariare. Il nostro obiettivo è proprio quello di essere vicino ai lavoratori e a quelle aziende che ancora si trovano in una situazione di difficoltà. Lo scopo della Banca dei Territori è di dimostrare sempre sinergia con il territorio. Sì, è un'iniziativa di non enormi dimensioni se guardiamo a quanto dedichiamo dal punto di vista delle risorse complessive ai temi dell'accompagnamento, della promozione del lavoro e al tempo stesso all'aiuto a chi in questo momento si trova senza lavoro e fuori dai circuiti del lavoro. Però è importante perché toglie un sistema di costi e riduce i problemi di chi si trova già ad affrontare un problema grande che è quello di essere temporaneamente fuori dai circuiti occupazionali. Naturalmente è un pezzo di una strategia più ad ampio respiro che ha come obiettivo quello di cercare di recuperare le condizioni per l'occupabilità e quindi generare in ultima istanza lavoro. La città metropolitana, attraverso un apposito contributo di Compagnia di San Paolo, provvederà al pagamento degli interessi e dell'imposta di bollo correlata all'apertura del conto corrente, sul quale sarà versato l'anticipo della cassa integrazione. L'accordo garantisce ai lavoratori e alle lavoratrici una copertura economica nel corso dei mesi che l'Inps potrebbe impiegare a corrispondere alle indennità di cassa integrazioni nei casi in cui l'impresa non sia in grado di provvedere direttamente. CGL e Cisle Will di Torino continueranno a fare da tramite tra i lavoratori e le lavoratrici che intendono richiedere l'anticipo e Intesa San Paolo per rendere agevole e tempestiva l'erogazione degli importi previsti dall'accordo. Dunque CGL e Cisle Will unitariamente in questi anni hanno sempre cercato di rinnovare allo scadere qual era l'accordo con il San Paolo in questo caso per dare ossigeno alle persone perché la cosa che a noi è sempre preoccupato è lasciare le persone senza nessuna remunerazione perché se non c'è anticipo da parte dell'azienda non c'è l'ok ministeriale in fretta è logico che rischi di restare tanti mesi senza portare a casa il nulla assoluto.